se dico liceo martin cos'è che ti viene in mente no la prima cosa che mi viene in mente alla fine classe non eravamo dei numeri ma eravamo delle persone direi luogo del cuore mi vengono in mente gli ultimi cinque anni della mia formazione piccolo ma buono è una scuola abbastanza piccola contenuta forse proprio per questo che ci si sente a casa e non è solo grazie a un bel gruppo secondo me un bel gruppo di anche di professori e di persone interne alla scuola in cos'è che vi ha aiutato effettivamente il liceo martin prima di tutto secondo me ci hanno fatto capire che siamo degli esseri pensanti tutti i professori sono riusciti a farmi capire cosa significa veramente il metodo scientifico allora il liceo mi ha aiutato soprattutto nel ritornare che è la parte scolastica sicuramente più difficile lì ho ricevuto tantissimo sostegno dai prof diciamo che il liceo linguistico di latisana mi ha permesso di capire che era davvero quella della mia passione il fatto di aver incontrato un professore come quello che ho avuto durante gli ultimi anni di liceo è stato fondamentale per me è proprio il fatto che gli insegnanti siano comunque qualcosa di più di semplici insegnanti non è qualcosa di più di semplici studenti per loro mi abbia permesso anche di sapere meglio di recuperare quello che avevo perso inevitabilmente nei periodi in cui non ero a scuola mi è piaciuto molto l'esperienza della scuola piccola in cui si ricordano come ti chiami e si ricordano di te anche finito il liceo perché una persona dovrebbe scegliere il liceo martin allora se abita latisana e per esempio si può svegliarsi al lavoro il studio che apre il martin secondo me è molto valido ambiente piccolo secondo me non significa non preparato anzi secondo me ci sono degli ottimi professori anche dal punto di vista umano ti fa capire meglio qual è il valore secondo me dei raccorti umani non è scontato che un prof la mattina ti vede un po' giù ti chiede come stai perché diciamo che non ti nega nessuna possibilità di aprirti altre passioni altri ambiti che non siano solo le lingue o che non siano strettamente scolata andare a scuola è sempre stata un po' una certezza uscivo di casa e sapevo chi c'era conoscevo tutti e non mi sono mai sentito spaisato i professori non ti fanno sentire un nome ma ti fanno sentire importante e quindi non siamo molto semplicemente scatole in cui riponiamo delle informazioni mi piacciaati un po' giù ti è preso commando di un'oc amretta e sosteggio di quanto si congli che ganz bene quindi continui a leggere qualcosa che è stato un po' giù ti è stata una fede Credo che questa scuola dia la possibilità di essere vissuta.